La legalità conviene. Questo è il titolo del convegno che stamattina ha animato l'auditorium dell'Istituto Vilfredo Pareto di Arco Felice, dove a partire dalle 10.30 un folto numero di persone per lo più giovani studenti ha preso parte all'evento, moderato dal giornalista Ciro Biondi, che ha visto come relatori Lorenzo Diana, presidente della Rete per la Legalità, Giosi Gerardo della Ragione dell'Associazione Fribacoli, Vincenzo Crosio, direttore e fondatore del Centro Studi Sociali Politici ed Economici Sandro Pertini e Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, che non ha esitato a definire il volto giusto della legalità. La legalità giusta, come dice Luigi Ciotte, conviene perché serve a regolare e migliorare i rapporti relazionati, relazioni fra le persone. La contrapposizione alla legalità è l'illegalità che significa semplicemente il dominio del più forte sul più debole. Così è stato in questi territori, dalla mia parte ma anche qui, per troppi anni, in cui quello che dominava non era la legge, quella democratica prodotta dal Parlamento, ma invece le leggi e le norme di altri, che sono gruppi criminali, e gruppi militarizzati e criminali che imbuncono la propria confidenza. Un tema che non può restare straneo al mondo dei giovani, che anzi nella sua quotidianità mette continuamente alla prova il valore della legalità. Qui qual è l'espressione? Insomma, il bullismo, e cosa può convenire il bullismo? Conviene solo a chi fa il bullo e neanche a lui alla fine conviene, perché alla fine si ritroverà certamente male. Ecco, rispettare delle regole e delle norme condivise, chiaramente, quelle norme condivise, questo aiuta tutti a crescere meglio e quindi conviene. Un momento di riflessione importante è quello di stamattina, che si inserisce nel ciclo di eventi promossi dalla scuola. È proprio il 17enne alunno dell'Istituto, Nico Sarnataro, ideatore del progetto Virtus Social IV, in cui il rispetto della legge e del vivere civile si combina con lo sport, ha guardato con ammirazione e speranza, come i tanti suoi coetanei presenti alla discussione, agli eventi di quanti vivono ogni giorno una difficile realtà sociale. Ognuno dei relatori, nel suo piccolo, cerca di apportare le esperienze di un mondo nuovo, di cambiamento attraverso i valori della legalità. Ci affacciamo ai più giovani, che sono la fascia del futuro, quindi per inculcargli i sani e veri valori della legalità e per vivere in un mondo, speriamo, migliore.